La pagina sportiva oggi apre dal Corriere dell'Umbria con la scherma perché dal 17 al 23 settembre è ufficiale la città di San Valentino ospiterà i campionati europei paralimpici, un appuntamento che è stato fortemente voluto dal circolo scherma di Terni e ci sarà come madrina ovviamente la campionessa proprio paralimpica Bebevio, c'è Bebevio, arriva a Terni per gli europei, il titolo continentale paralimpico dunque viene assegnato in Umbria, l'oro di Rio de Janeiro dice voglio vincere, ma ovviamente si parla anche di calcio a Perugia, Diamanti che è il nuovo acquisto del Grifo dice sacrificio d'umiltà per puntare in alto, poche parole ma intense per Alino alla sua presentazione, non vendo sogni dice lavoro questa piazza mi piace da sempre. Clima come dire un po' più teso invece a Terni, fere cifre da banda del buco e non è un complimento, solo due volte le fere non hanno preso gol, peggiore retroguardia del torneo con 50 reti subite e ovviamente ora ci si interroga sul futuro. Parliamo invece di chi va benissimo ed è il volley ed è la Sir, il dream team Lollo Bernardi e Maradona, dal calcio al volley parlano i fratelli Nofri beccati all'evangelisti a tifare Block Devils, dicono, dice in particolare parla Fabrizio, mi è sempre piaciuto il pallone potremmo dire così ma ovviamente sempre appassionato anche di volley dai tempi della Sirio, mia figlia fa la palleggiatrice dunque ovviamente qui l'interesse per questo sport. Atanasievic dice è proprio un grande. Andiamo avanti, siamo a parlare del gubbio, notari e senza pace dovevamo gestirla meglio. Parla il presidente che recrimina e si sfoga per la sconfitta e dice sul 2 a 1 si poteva impedire la rimonta del Pordenone. Ora si guarda la trasferta di Fano, non possiamo, dice, permetterci degli errori. Andiamo a Spoleto, magicola Coppa con dedica vittoria per Riccardo Pizzi. Ha trascinato questo giocatore al trofeo la Ducato con quattro reti infidale, merito, dice, della squadra. In Serie D c'è ribaltone Sansepolcro, Falcinelli non accetta, la panchina va a schenarli. E poi chiudiamo con l'atletica, è tornata super Alessandra, parliamo di Alessandra Lazzari, ad Ancona ha conquistato la medaglia d'argento agli assoluti. Lo vedete nel salto con l'asta, ci voleva, dice, dopo tanta sfortuna. Andiamo alla Nazione, il suo inserto sportivo, in particolare da Perugia. Parla il neoacquisto Diamanti, il mio sinistro è al servizio del Grifo. Intanto, in vista della ripresa, Bianco è fuori uso, Colombatto si prepara e in vista della trasferta a Frosinone, il settore ospiti, dove potranno andare i perugini, ha un biglietto a 25 euro. Ternana, Mariani non si tocca, ma adesso serve la svolta, Mandecchi richiama tutti al massimo impegno. Gubbio ci sarà da lottare fino all'ultimo, lo dice l'attaccante Marchi, dopo il K.O. con il Pordenone. Sir, parliamo dunque di volley, Sir Perugia senza sosta, basta una vittoria per il Primato. E poi in promozione, parliamo ancora di calcio, Ducato Foligno, la partitissima potrebbe giocarsi a Spoleto. Chiudiamo con il messaggero, Grifo sacrificio e qualità, parla Diamanti, non faccio promesse, non vendo sogni, l'obiettivo è allenarmi e mettermi al servizio dei compagni. E poi parliamo non di calcio, ma in qualche modo del mondo del calcio. Ribaltone, Federcalcio, Repace, unico candidato per la presidenza. Ancora, dalle pagine del messaggero, andiamo a parlare della Ternana. Fere, ultima spiaggia, prendere i calciatori svincolati entro il 28 febbraio, è l'unica strada per inserire dei rinforzi in una squadra che ha delle oggettive difficoltà. E poi Sir Conad, un passo dal record, un successo nella gara in programma domani contro Latina, garantirebbe ai Block Devils il primato della regular season. Lo zar Ivan Zaitsev è deciso, per la matematica ci mancano solo tre punti, speriamo di chiuderla subito. E poi andiamo a parlare sempre di volley, ma scendiamo di categoria, volley a due, siamo a Spoleto, Lamonini guarda avanti, battiamo Grotta Zolina, mentre per il tennis da tavolo a Foligno si sogna ad occhi aperti sfida per la Serie A. Era l'ultima notizia per lo sport, ma come sempre ora uno sguardo al meteo. Pierucci elettrodomestici a Semonte di Gubbio presenta le grandi offerte del momento. TV 40 pollici smart a 239 euro. Expo Casa, 3 11 marzo, Umbria Fieri di Bastia Umbra. Arredare, costruire, ristrutturare. Dunque la pagina dedicata al meteo, ovviamente il freddo è presente e ora potrebbero arrivare anche le prime nevicate, ma non aspettatevi, insomma, grandi accumuli. Dunque, nella giornata odierna le prime precipitazioni nevose in Appennino, in nottata la parte orientale della regione, potrebbe vedere anche deboli precipitazioni nevose a carattere sparso tra i 400 e i 500 metri, in particolare la fascia appenninica tra fossato il sigillo e scheggia potrebbe essere imbiancata, ma non si prevedono dei grandi accumuli. Per il resto, le precipitazioni risultano davvero esigue, quindi deboli, nevicate, notturne, intermittenti, senza alcun attecchimento al suolo, ma ovviamente si dovrà attendere la giornata di domani per avere qualche maggior certezza. Nel corso comunque della giornata odierna si manterranno situazioni di nuvolo con precipitazioni solo a carattere sparso. Le temperature massime sono in calo e si attestano tra i 4 e i 5 gradi. Bene, questo per il nostro meteo, che ovviamente conclude la rassegna stampa. Grazie per averci seguito, a voi una buona giornata. Grazie per averci seguito, a voi una buona giornata.